Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del crogiolo ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio o roccaforte dove mi sono recato, una tappa è sempre stata fissa, l'emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando le cantine tenebrose, mi sono recato personalmente nel mercato locale dove mi è stato suggerito un prodotto, o per meglio dire una serie di prodotti, che faranno al caso di ogni esploratore. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'emporio del crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia i 6 starter deck di Altered. Vuoi dare il via alla tua avventura come collezionista nello sconfinato universo dei TCG ma non sai da dove iniziare? Colleziono da zero è la soluzione che fa per te. Con questa guida dettagliata imparerai non solo a conoscere le basi di questo mondo, ma anche le strategie avanzate per massimizzare il valore della tua raccolta. Che tu sia le prime armi o un amatore, questo libro sarà la bussola che ti guiderà nello sconfinato universo dei GCC. In colleziono da zero troverai consigli utili per muovere i primi passi in questo mondo, una panoramica sulle tecniche del collezionismo, come reperire intere collezioni attraverso strategie mirate, senza spendere un patrimonio anche se non hai esperienza. Acquista ora la tua copia personale cliccando il link che ti ho lasciato in descrizione o direttamente su Amazon digitando nella barra di ricerca Colleziono da zero. Grazie infinite per il supporto e buona lettura. Torniamo al video. Ogni scatola presenterà il proprio protagonista assieme al companion che domineranno solitari l'immagine principale. Con il nome del gioco in alto e la casa di appartenenza in basso, assieme al logo rispettivo della stessa fazione, la lingua con l'età minima consigliata sulla parte frontale, il logo del TCG in questione, con la stessa bandiera della nazione specifica ed una finestrella circolare che riporterà il campione sul lato destro ed il companion su quello sinistro, tutte le informazioni legali del caso sul fondo dell'articolo e queste ultime assieme alla lista del contenuto ed un vademecum sul come utilizzare al meglio alcune dinamiche del gioco riportate sul dorso della confezione. All'interno di ogni starter troverete un leader specifico per la cassata di riferimento, un mazzo da 40 carte suddivise in 31 comuni e 8 orare, 6 carte token, le tipiche 5 carte avventura, 2 carte aiuto, una carta foiler, una carta nuovo giocatore, 15 segnalini di gioco, un poster playmat che risulterà utilissimo soprattutto nelle prime sessioni di test assieme ad amici o conoscenti ed un taloncino stampato fronte-retro dove saranno riportate le regole così da dare il via alla propria avventura nel migliore dei modi. Ora, dopo aver visto il contenuto di ogni starter, passiamo alla lista dei diversi deck che ci troverete all'interno, andando infine a rispondere alla domanda quale mi converrà acquistare per essere il quanto più competitivo possibile in un local? La risposta sarà basata sulla mia personale esperienza e se non sarete d'accordo con quello che seguirà, sentitevi liberi di esprimere il vostro parere come sempre tra i commenti. I Braavos con Kojo e Buda come rappresentanti proporranno un deck dal costo basso ma estremamente efficiente nelle spedizioni dove le carte verranno giocate. L'unico problema sarà quello di tenere botta nelle parti centrali ed inoltrate del match dove questo mazzo faticherà a competere. Per contrastare dalle probleme, quindi, verranno in aiuto diversi boost che potenzieranno i personaggi impiegati in campo, dando così all'avversario un motivo in più di preoccupazione. Per gli amanti del Rush questo sarà un buon punto di partenza. Gli Axiom con Sierra e Hotball vi daranno la possibilità di giocare attorno ai permanenti che creeranno token all'occorrenza da piazzare nella spedizione che più vi risulterà comoda. Il tutto ovviamente si tradurrà in una strategia di gioco lenta e macchinosa all'inizio ma una volta che le installazioni tecnologiche avranno fatto la loro comparsa risulterà molto difficile fermarle. Inoltre, grazie al Killon, un materiale a disposizione unicamente per questa fazione, potrete incastrare i giocati micidiali che sopraffarranno l'avversario. I Muna con rappresentanti Teia e Naura vi daranno il benvenuto tra la natura e l'amore per tutte le cose. Grazie all'abilità del leader, ogni volta che verrà giocato un personaggio, esso guadagnerà un segnalino più uno in ogni bioma. Questa sarà una fazione che farà della parola chiave Anchor Aid la sua arma più rappresentativa. Proprio come per gli alberi antichi che dominano l'orizzonte verde, grazie a questo starter potrete mantenere sul terreno le creature che avrete giocato nel turno in corso, senza mandarle in riserva all'arrivo del crepuscolo. Ciò vi fornirà un vantaggio quasi sleale che darà del gran filo da torcere alle strategie rivali. I Lira con Nevenka e Bloch daranno molto spazio alla casualità dei tiri con il dado. Il gioco basato sull'imprevedibilità di questa fazione, infatti, sarà di casa per gli artisti di questo TCG. La maggior parte degli elementi del deck in questione orbiterà attorno al risultato ottenuto, garantendosi boost, mettendo i bastoni in mezzo alle ruote e alle dinamiche avversarie o semplicemente danneggiandosi per conto loro. Per l'appunto, per quanto riguarderà il leader, se il risultato del lancio sarà 1, una carta presente sul vostro terreno dovrà essere posta nella riserva senza aspettare il crepuscolo. Personalmente trovo quello dei Lira uno degli starter meno adatti per un nuovo giocatore. Gli Ordis, dove Sigismar e Wingspawn la faranno da padrone, offriranno uno stile di gioco semplice e volto all'aggro. L'intera dinamica di gioco orbiterà attorno alla creazione di segnalini soldato, grazie alle numerose carte che permetteranno all'esploratore di infoltire i ranghi di entrambe le spedizioni, per poi potenziare il tutto all'unisono, scagliando contro l'avversario una vera e propria armata militare, guidata dall'ordine e dalla rettitudine, che vi consentirà di portare a casa la vittoria senza lasciare scampo alle difese rivali. Personalmente il mio preferito, sono certo che questo starter risulterà essere la prima scelta di molti curiosi ed appassionati di Altered. Terminiamo con gli Izmir, che si concentreranno, grazie al loro eroe e companion Akesha e Taru, sulla manipolazione e il controllo del tavolo da gioco. Infatti grazie al potere dell'esploratrice, quando possibile, si potrà dare la possibilità all'avversario di giocare la sua prima mossa, e ciò vi consentirà di studiare una strategia che si baserà proprio sul primo movimento che l'avversario avrà fatto. Esperti sabotatori, grazie a diverse carte presenti nel deck, esse vi consentiranno di disturbare la dinamica futura di chi vi giocherà contro, sfruttando sinergie ben pensate che, però, non saranno di facile intuizione per dei nuovi giocatori. Quindi, dopo aver visto le diverse carte contenute nei deck, andiamo a vedere quale si adatterà meglio o peggio a dei novizi che si vorranno avvicinare alle meccaniche di Altered. Ho giocato ogni starter giusto qualche partita per rendermi conto delle diverse strategie che seguivano e quando avrebbero iniziato ad incidere su un match, e dopo una sessione durata diversi giorni, sono arrivato alla conclusione che il miglior starter attualmente in mercato è quello degli Ordis, seguito a ruota dai Bravos in seconda posizione, i Muna al terzo posto, Axiom e Izmir a condividersi il parterre e i Vira al quinto. Ma aspetterà voi, come al solito, provare i diversi starter e scegliere quello che si adatterà di più alle vostre esigenze da giocatore. Prima di concludere, volevo ringraziare i signori di 4X Trading per avermi dato la possibilità di parlare dei prodotti mostrati in questo contenuto. Vi lascerò ogni riferimento al loro negozio e dove trovarli sui social come sempre in descrizione. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!